Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo delle impostazioni di OBS Studio. Questo video sarà una parte delle impostazioni, perché le impostazioni sono tante e vale la pena spiegarle con calma. Quindi ci saranno altri due video che parlano delle impostazioni. Quando voi aprite OBS Studio avrete OBS vuoto, perché vi mancano da costruire le scene e da impostare le fonti. Anche queste cose non ve le spiegherò adesso, perché nel mio modo di spiegarvi OBS Studio, prima impostate correttamente le impostazioni, scusatemi il gioco di parole impostate le impostazioni, e dopo create le fonti corrette rispetto alle impostazioni messe in maniera corretta. Allora, il penultimo pulsante di OBS Studio è Impostazioni. Si apre un menu, che è questo che vi sto facendo vedere. In questo momento sto usando lo stesso OBS Studio, sia per registrare che per farvi vedere le impostazioni. Quindi potrete vedere in alcuni punti che le mini combo box non sono apribili, cioè non posso cliccarci e vedere il contenuto, ma vi spiegherò lo stesso, cosa ci sta dentro e cosa si può impostare. Allora, la prima cosa da vedere è, casomai OBS non sia stato installato in italiano, potete scegliere la lingua in italiano, e vi consiglio di mettere il tema dark, perché è un tema che stanca di meno gli occhi. Tutto qui, in questa finestra non c'è altro. Passiamo a trasmissione. La trasmissione equivale alle live streaming. Allora, si fanno tante live streaming su YouTube e anche per esempio su Facebook. Allora, ci sono un disastro di servizi tutti scritti qui, ci sono tantissimi. Se ne sono anche altri, questi sono i più usati, ok? In un prossimo video vi spiegherò come si creano gli streaming su YouTube. L'importante è sapere che lo streaming su YouTube fornisce una chiave. La chiave è del singolo streaming che va inserita qua dentro, e quando si preme sul pulsante avvia trasmissione in OBS Studio, parte lo streaming di YouTube. semplicissima la cosa, quindi lato OBS ve l'ho spiegato. Adesso, quando andrò a spiegare comunque lato YouTube, tornerò a spiegarvi anche questa funzione qui in OBS. Però bene saperlo già da adesso. Andiamo a vederci il nostro output. Allora, qui non posso cliccare perché sono in registrazione, ma ci sono due modalità, semplice e avanzata. Allora, la semplice la vediamo subito. Allora, si lascia tutto così com'è, e si va a vedere soltanto se nella codifica c'è qualcos'altro oltre H.264. Quando è che può esserci qualcos'altro? Quando avete una scheda video che supporta un driver con la GPU, tipo in biblia con il codec CUDA NVENC, per esempio su Linux è scritto NVENC, voi potete mettere quel codec in modo da sfruttare la GPU e meno la CPU, perché se notate su OBS, in basso a destra c'è un time del REC, e poi più a fianco c'è la CPU e la percentuale di quanto è stressata in questo momento. Per me è solo il 13%, ok? E poi ci avete anche le impostazioni BILT RATE AUDIO, ok? E poi avete qua il codificatore da usare. Se voi mettete ULTRA FAST, usate molto di meno la CPU, e quindi anche se usate H.264 perché non avete altri codificatori, per esempio io ho una scheda video Intel in questo momento sul portatile, non ho codec strani per avere la GPU in utilizzo, e quindi ho solo H.264, ma utilizzando ULTRA FAST riesco ad avere la CPU, adesso è al 15%, toh, tra il 14 e il 15 sta andando. Ecco, l'altra cosa interessante è dove registra OBS il nostro file. Io ho messo nella cartella video della mia home, ok? E poi ho impostato il formato MP4. Gli ho messo la qualità stessa della trasmissione, perché mi serve una qualità buona, ok? L'altra cosa che ci può interessare è l'audio. L'audio, qua ci sono tutte le file che audio e il campionamento. Allora, per un video tutorial si può comunque lasciare 4400, va bene. Se siete musicisti e volete fare una sessione live di musica, guardate il campionamento che avete. In questo portatile ho la possibilità di andare a 48. Ok, metto una qualità audio più alta e riesco a registrare con una qualità migliore. Poi il canale stereo, volendo posso andare fino a 7.1, avendo anche i suoni che giri un 7.1. Poi, se no, non ha senso avere il 7.1. Poi posso avere tutte le periferiche audio che registrano, tipo quello che sento sul desktop, apro Spotify, registro Spotify, quello che sento dal microfono. Per esempio, io ho il microfono Rode nel QUSB, come vedete dalla lista. Però io sto usando Default. Default, voi direte. Ma non dovrei avere abilitato Rode NT USB per registrare con Rode. Allora, sul mio sistema che è Linux OpenSUSE e sto usando KDE Plasma come desktop, posso dire a KDE Plasma di avere la priorità sulle periferiche. Allora, il mio portatile ha sia la scheda integrata audio, che la scheda che è dentro, la Rode NT USB. Cioè, quando attacco Rode, diventa scheda audio anche Rode. Tutte e due le schede assieme le ho messe in priorità, in modo che funzioni il Rode se è attaccato, come scheda video e microfono, e se non è attaccato il Rode funziona la scheda audio integrata e il microfono del portatile. Tutto qui. Invece, sistemi come Windows, ho visto che ogni volta bisogna andare a dirgli qual è la periferica da usare, perché sennò i vari valori, i volumi non si muovono. Ecco. Allora, l'altra parte dell'esplicazione video ve la farò la prossima volta. Adesso ci soffermiamo sull'audio e vediamo altre due cosucce sull'audio. Allora, per farvi vedere i volumi dell'audio, faccio un bello stamp a video, ok? e salvo quello che vedo io su OBS. Adesso me lo sto salvando. Lo salvo, prendo il pulsante salva e lo salvo come screenshot PNG, salva, ok? Mi ha detto anche il sovrascrivere perché ce l'avevo casualmente da sul desktop. Adesso apro l'immagine e la metto a tutto schermo. Però vedete qua il mixer? C'è le file che non sono configurate bene, per esempio il microfono non si alza il volume, quindi già qui, ancora prima di registrare, potete verificare se il microfono funziona o se Spotify aperto prende da audio desktop di OBS Studio. Questo è un primo controllo che potete fare. Poi per la regolazione dei volumi, i volumi non devono mai andare sulla parte rossa, altrimenti l'audio distorce. I volumi devono andare nella parte gialla perché è un buon volume e sufficientemente alto per sentirsi in device tipo il mio cellulare, ok? E se l'audio è sempre sul verde, è troppo basso, quindi in cellulari potrebbe non sentirsi. Questa è una cosa abbastanza importante. Altra cosa da controllare, vedete qua che ci sono dei pulsanti su due perifelche audio, cioè sono un tipo di ingranaggi, e là dentro c'è le impostazioni avanzate. Allora, le impostazioni avanzate adesso ve le faccio vedere. Una delle impostazioni avanzate è proprietà audio avanzate, che è questo menu qui. Come vedete, nelle proprietà audio, io ho messo un sync offset a 250. Premessa, l'audio viene processato prima del video, perché il video è più pesante, quindi se non mettete nessuna impostazione foglia allo standard, vedrete che il vostro audio di parlato non è in sincrono col video, cioè prima sentite l'audio e poi vedete muovere le labbra. Allora, mettete 250 sia su audio desktop che su mix aux, e così avete un sincrono della persona che sta parlando e dell'audio che sentite. Vi garantisco che 250 è un parametro che va bene su tanti computer, più scarsi e più potenti va bene sempre 250. Allora, per farvi capire che veramente il video con l'audio con la 250 di ritardo funziona bene ed è sincronizzato col video, adesso ingrandisco la webcam, sto parlando e credo che voi vediate il mio parlato in sincrono con le labbra. Quindi è così che funziona. Ci ho messo 4-5 ore per trovare questo numero, però secondo me è il numero magico che deve essere utilizzato. Altre impostazioni che ci sono è filtri. Nei filtri, che è questa la finestra, ci sono tre tipi di filtri, il compressore, l'incremento, sensibilità all'ingresso. Allora il compressore rende sempre l'audio allo stesso volume, è sempre tutto alto. Non so, non l'ho mai usato. Io posso servire se volete che l'audio venga sempre ascoltato e bene sul device tipo questo. Invece quello che uso spesso è la sensibilità dell'ingresso. Cioè, dire che sotto una certa soglia l'audio non si deve sentire. Se per esempio siete in una conferenza, dovete registrare il relatore, davanti al palco del relatore ci sono gli uditori che sono seduti. Un uditore può avere il pacchetto di patatine e sgranocchiare. Allora, voi volete che si senta solo non l'uditore ma il relatore? Allora cosa fate? Mettete sensibilità di ingresso, mettete il microfono molto vicino al relatore, e praticamente tutto quello che è sotto una certa soglia non viene sentito. Si spera che non si senta il personaggio che sta mangiando quelle patatine. Ok, che è veramente un casino, non vorrei mai che si sentissero questi suoni. Se avete la sfiga di avere il microfono troppo distante o di avere un volume basso per qualche motivo a voi sconosciuto, potete usare incremento e alzate il volume molto più alto rispetto al massimo che c'è sul mixer. Per me queste sono le prime farinature sulle impostazioni. Nei prossimi video continueremo sempre a parlare delle impostazioni, quindi ci saranno sicuramente altri due video per le impostazioni, poi più avanti ci sarà anche il video che parla di scene e fonti, perché vi ho detto che avete ancora OBS vuoto e più avanti ancora avrete il video che parla di YouTube e delle live streaming. Mi raccomando, se avete qualcosa che non capite o pensate che nella lista dei prossimi video che vi ho accennato manca qualcosa, potete scrivermelo sotto a questo video, perché mi fa piacere avere un feedback con quelli che stanno guardando questi video, perché questi video non li sto facendo per me, a me non mi frega niente, io queste cose le so, spero di passare questo mio sapere a altre persone e riescano a utilizzarlo per fare dei video tutorial anche più belli dei miei. Per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.